Massima attenzione, io chiamo già l'allerta, scusate mi fa un freddo boia, perdonate, perdonate. Massima attenzione all'Udinese, che è in crisi, sconfitta contro la Samp, contro il Napoli, in crisi niente. Massima attenzione a questa squadra che è rognosa, è rognosa, l'abbiamo visto oggi ragazzi. Scusate, mamma che sto facendo, scusate, mi sento proprio appena, scusate. Massima attenzione all'Udinese dei Gotti, massima, proprio massima, massima che è riuscita. Ragazzi, lo so se è solamente difeso, si sono buttati dietro, il polmino, il carro armato, lo yacht, la metietrebbia davanti alla porta. Fate voi, scegliete voi il veicolo apposito e adatto. Ma attenzione, attenzione perché questa è una squadra che chiude gli spazi, ti concede... Non lo so, poco, poca roba. Ragazzi, perché non neghiamo, è una squadra che concede due, due occasioni all'Atalanta, due? Due occasioni all'Atalanta, vuol dire veramente che è una squadra che è tosta. Vuol dire veramente che è una squadra che è rognosa. Attenzione, 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 devo dire, la Dea ci ha messo del suo. Dopo 30 secondi, passa già in svantaggio, in quel modo, a quella maniera, in quella maniera, a quel modo. Non lo so, sto preposizione, sto facendo una confusione. Lasciamo stare, però scherzi a parte, dopo 30 secondi, passa in svantaggio perché Toloi va a vuoto e invece di seguire il giocatore là e di dare copertura va a raddoppiare. Poi Romero stesso si fa saltare con troppa facilità, Pereira ha delle qualità e te le ha dimostrate e l'Odinese fa la partita che voleva, passa in vantaggio, si chiude, stagnosa, stagnante direi, dietro e poi non è facile. Poi non è facile, non è facile per l'Atalanta, non è facile per nessuno ribaltarla. Devo dire, devo dire che inutile negarlo un conto, ma con tutto il bene, perché poi stiamo parlando comunque di giocatori bravi e forti, cioè Mirancic e Malinowski, ma un conto è giocare con Ilicic e Gomez e un altro è con Mirancic e Ilicic. Vuoi o non vuoi, sono giocatori diversi, vuoi o non vuoi, hanno delle caratteristiche differenti e quindi, vuoi o non vuoi, la partita viene sviluppata in maniera diversa. E quando la squadra si chiude, la genialità di Ilicic, la superiorità di Gomez, ragazzi, fanno la differenza. Lo so che poi alla fine andiamo a toccare sempre gli stessi tasti, però siamo qui per parlarne, ecco, non ne chiamano. E poi non capisco una cosa, non capisco perché le sostituzioni debbano essere sempre le stesse, cioè se tolgo Muriel deve entrare Zapata, se tolgo Malinowski deve entrare Ilicic. Più che, io vi dico la verità, magari non avrà fatto neanche un primo tempo fantascientifico, però io Muriel non lo tolgo, io Muriel non lo tolgo, perché Muriel ti inventa la giocata e ha fatto un gol mirabolante. Il gol di Muriel è mirabolante, vedetelo, è mirabolante. E' l'unico che è riuscito a prendersi in mezzo a due o tre, ti ha fatto gol, te l'ha fatto, te l'ha sbattuta dentro. Non l'avrei levato, questo giocatore non lo levo, oggi non lo levo. Non l'avrei levato, perché sì, direte voi, qualche palla di troppo l'ha persa, sicuramente sì, però ragazzi non è facile, non è semplice, lo stesso Zapata non è che poi abbia dominato nell'area di rigore, perché non era semplice oggi, perché oggi non era affatto facile. Tiro di mele, ha avuto un'occasione al primo tempo, tiro di mele, un altro di Miranciuk nel secondo, e poi un'occasione clamorosissima per Malinowski che si inventa un tac a due metri dalla porta, due metri dalla porta, devi sfondarla, devi sfondarla, devi bucarla la porta, non ti puoi mettere a fare tacchi a due metri dalla porta, sfondare, c'è un solo verbo, un solo verbo, il verbo sfondare, pum, stop, non tacchi sotto porta, sfondare, c'è un solo verbo. E quindi, non lo so, Mettilic c'è dietro, Muriel e Zapata, secondo me hai più chance, poi ovvio, io che cazzo so per queste cose, l'allenatore a lui, ed è giusto che decida lui, e ci credo, ha voglia se ci credo, ma detto questo, 1-1, 1-1 e ripeto, palla al centro, o meglio, partita chiusa, l'Udinese è il prossimo avversario dell'Inter, bisogna stare attenti, perché questa è una squadra, soprattutto conoscendo le caratteristiche dell'Inter, che quando trova squadre stagnose, squadre stagnante, squadre chiuse, si fa fatica, e l'Udinese è una di queste squadre qua, un po', con i difensori strutturati, messi lì, bisogna stare molto, 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 molto attento e assolutamente non sottovalutarli, poi c'è da dire che per la prima volta loro giocheranno in deficit, se vogliamo, perché non avranno riposato, noi per la prima volta dopo millenni giochiamo una partita dopo quanti giorni? sei, sette? Quindi devo dire, per una volta va bene, sì, sette, perché poi sabato era l'Inter Juve, se non sbaglio, e mo' sabato, no, era domenica l'Inter Juve, ho perso il senno, sì, domenica, se non sbaglio, ho perso il senno, e giocheremo sabato, quindi sei giorni, e va bene così, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, e iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, paneschi.